furore 2 puntata 25 febbraio la verità sulla morte di vito furore 2 puntata 25 febbraio la verità sulla morte di vito continua da parte di giovanna la ricerca della madre mentre marisella sta portando avanti la gravidanza nuovo appuntamento questa sera con la seconda stagione di furore la serie l'esordio la scorsa settimana torna in prima serata alle 21.20 su canale 5 la regia è di alessio inturri gli ascolti non sono stati all'altezza delle aspettative della vigilia furore 2 nella puntata di domenica 18 febbraio ha raggiunto una share del 10 per cento furore 2 dove eravamo rimasti nella prima puntata i telespettatori hanno assistito al divito proprio quando stava per sposarsi il fratello sarò massimiliano morra è deciso a vendicare la morte per questo obiettivo decide di entrare nelle forze dell'ordine vuole tra l'altro capire qual è l'approccio delle istituzioni nei confronti della malavita organizzata fin da subito si rende conto che anche i poliziotti spesso non rispettano le leggi e le regole e come se non bastasse hanno sentimenti di intolleranza nei confronti delle persone meridionali una forma di razzismo che è molto accentuata al nord nell'epoca in cui si svolge la vicenda furore 2 anticipazioni puntata 25 febbraio la puntata inizia con giovanna raffaella di caprio che sta cercando disperatamente di avvicinarsi alla verità su sua madre la giovane non sa che anna la mamma si trova rinchiusa in un ospedale psichiatrico lentamente però si accorge che tra lei e franco francesco ferdinandi sta nascendo un sentimento che sembrerebbe assomigliare all'amore grazie all'appoggio e dalla comprensione di sarò massimiliano morra marisella adua del vesco riesce ad ottenere l'appoggio della famiglia nella sua decisione di portare avanti la gravidanza le attenzioni che il ragazzo le riserva però fanno ingelosire sua sorella giuseppina clotilde esposito nel frattempo nonostante i tentativi di calligari remo girone di fa r chiudere il caso le indagini sul rivito sembrano arrivare ad una svolta furore 2 i cast ecco gli attori che fanno parte del cast di furore capitolo secondo massimiliano morra adua del vesco francesco ferdinandi raffaella di caprio elena russo angela molina aurora giovinazzo remo girone lorenzo flaerti vanessa gravina alessandra barzaghi laura torrisi serena grandi alex belli francesco monte nito flores clotilde esposito renato marotta